Una riserva vittima della confusione normativa è quella di San Giovanni in Venere, 58 ettari di aria protetta, a bazia compresa nel territorio del comune di Fossacesia. La denuncia è dell'assessore comunale all'ambiente Andrea Natale, che in una nota ripercorre l'iter legislativo di istituzione. La riserva di San Giovanni in Venere nasce il 30 marzo 2007 con legge regionale numero 5, figlia di un emendamento. Le riserve regionali in Abruzzo sono 26, considerando anche San Giovanni in Venere, e rappresentano, sostiene l'assessore di Fossacesia, una realtà importante, non solo per la tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici, ma anche per l'educazione ambientale, la ricerca scientifica, l'innovazione e lo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Ma la carenza di fondi regionali, denuncia l'assessore, ha visto non finanziate le ultime riserve nate, che di fatto quindi non sono mai partite. E si stendo solo sulla carta, continua l'assessore, viene preclusa l'azione positiva di volano economico che molte riserve rappresentano nei territori nei quali si trovano. E questo è il punto, pur avendo il regime vincolistico delle riserve regionali, l'Oasi naturale di San Giovanni in Venere non ha mai avuto dalla regione questa classificazione e, di conseguenza, i fondi annuali per la gestione. L'assessore comunale Andrea Natale ha chiesto un incontro all'assessore regionale all'ambiente Gianfranco Giuliante per dirimere la questione. Nel frattempo, non avendo fondi comunali da investire, da Fossacesi arriva il buon esempio. Da questo mese l'assessore Natale devolverà metà della sua indennità annuale netta di assessore allo sviluppo delle attività della riserva di San Giovanni in Venere. Sul nostro territorio, conclude l'assessore comunale, sono due le progettualità alternative sulle quali oggi la politica e le nostre comunità sono chiamate a scegliere, la petrolizzazione e il consumo indiscriminato delle risorse naturali, oppure il parco e l'innovazione dell'automotive. Grazie.